Ciao, guarda attentamente il giardino in cui mi trovo e ci vediamo tra pochi secondi. Come potuto ben vedere, questo giardino è stato realizzato secondo uno schema molto molto classico, pradicello centrale e siepe perimetrale intorno. Se vuoi evitare questo tipo di giardino, quindi un giardino sia verde ma non funzionale, richiedici immediatamente la nostra analisi gratuita. Ciao!